Prova l'uno contro uno, vediamo, lo contrastano con l'esterno il suo cross, questo fallo di mano e rigore, calcio di rigore, controlla con un braccio Domò. Rivediamolo, l'esterno di Riccardo Quaresma, guardate come proprio protende il braccio all'indietro per controllare questo. 2-1 per i padroni di casa, l'arbitro il signor Busacca fischia in questo momento, Cruz tiro, gol, pareggia l'Inter che nell'arco di tre minuti trova prima il gol di Cordoba e poi il pareggio di Cruz. E allora 2-2 Partito